Bella a tutti ragazzi, sono Orgasmic, sono qui a portarvi un nuovo episodio della Zara Road to Chelsea e siamo qui, visto che avevamo finito comunque i giocatori bronzo da comprare ci eravamo comprati Schwarzer nello scorso episodio e adesso dobbiamo prendere gli argento come primo giocatore non poteva mancare il mitico Ake olandese, difensore centrale, un po' il David Luiz Silver del Chelsea con un prezzo abbastanza basso, 1200 crediti l'ho pagato, comunque è un buon difensore dalle discrete statistiche dopo ci accorgeremo di alcune cose che però vedremo dopo ovviamente intanto lo metto in squadra, adesso abbiamo 4 giocatori che fanno intesa in difesa quindi ci manca solamente il terzino sinistro da comprare ma sarà oro e sarà spiliqueta nei futuri episodi ovviamente do contratti se servono, forme fisiche se servono per esempio c'è Loftus Chick, il cugino di Johnny Crick che come vedete è infortunato quindi dobbiamo mettere quel tizio tedesco ma comunque non può mancare l'orco in squadra, cioè Diop metto la forma fisica come a inizio episodio come in tutti episodi e andiamo subito a cercarci la prima squadra il primo avversario che guardate che gran squadra che ha nel senso a poca intesa ma come potete vedere ogni giocatore o quasi tutti sono veramente molto buoni tra cui spicca un Paloschi in forma comunque questo è l'episodio caratterizzato dai portieri ignoranti perché guardate cosa combina il portiere del mio avversario palla da zar che mette il pallone a Brown il figlio segreto di William che la mette in rete con grande finalizzazione poi ha sempre Brown, riesce a smarcarsi guardate qui cosa combina il portiere ancora rido da quando è successo oggi mentre giocavo e siamo sul 2-0 per me è partita comunque in discesa poi al novantesimo dopo aver amministrato tutta la partita arriva un altro gol di Brown doppietta più assist per lui davvero assist per modo di dire però comunque si è davvero un ottimo ottimo bronzone che sta facendo veramente tanti gol da quando l'ho preso se non sbaglio il primo episodio proprio o comunque il secondo come vedete qui cerco un francese del Chelsea e di argento c'è solo Zuma come francese del Chelsea anche perché sono pochi i francesi cioè di argento del Chelsea come potete vedere però grazie a questi price range non si trovano più Zuma ne ho trovato uno ma come potete vedere me l'hanno ciulato e adesso non riesco più a trovarli quindi passo agli oro visto che l'altro argento è Chalobah che è un centrocampista che però anche lui anch'esso non si trova forse non è neanche nel gioco non lo so comunque come avete visto compro l'egiziano Mohamed Salah che è uno dei giocatori con rating più basso tra gli oro quindi è quello che prima dovevo acquistare lo metto subito al posto di Rudinef almeno proprio il suo ruolo anche se è un ED però comunque sia con l'intesa va bene lo stesso cerco una partita singola con la faccia di Arda Turan che sorrideva lì non so se l'avete vista e incontro questo avversario che ha una squadra che io temevo abbastanza perché i coreani sappiamo che sono tutti un po' strani in questo gioco sono molto forti cioè da FIFA 12 sono sempre stati fortissimi quindi comunque la partita comincia nel migliore dei modi con un cross in area ribattuta indietro e guardate Diop stoppa il pallone l'orco tira una botta sotto l'incrocio il portiere può solamente ammirare l'orco che fa un gol della Madonna 0-1 per me che bella sta maglia tra l'altro e come dicevo portieri ignoranti guardate cosa combina il tizio coreano qui passa il pallone Hazard che non può fare altro che mettere a sedere il portiere e finalizzare a rete questo tiro e poi arriva forse con un po' di fortuna ma con il gol che mi è capitato a me non posso neanche parlare di fortuna arriva il 2-1 dell'avversario che comunque aveva fatto praticamente solo quel tiro in porta in realtà la partita poi finisce sempre 2-1 per me dopo che ho attaccato tantissimo come possiamo vedere qui 15 tiri contro 5 nel mio avversario ho triplicato il mio avversario in fattore tiri e quindi ci meritavamo la vittoria e come ultimo giocatore da acquistare in questo episodio compro John Obi Mikkel altro giocatore con rating basso poi comunque consigliatemi nei commenti altri giocatori da prendermi nei prossimi video contratto per Brown poi lo darò anche il terzino sinistro che comunque penso che finirà qui la sua dopo questa ultima partita la sua carriera nel Chelsea perché penso che dal prossimo video prenderò a Spiliqueta così almeno da mettere un terzino del Chelsea che è l'unico giocatore che mi manca poi del Chelsea quindi metto Salah in campo che sarà l'uomo chiave della prossima partita incontro questa squadra di questo tizio che non aveva probabilmente capito come funziona il calcio cioè metteva i centrocampisti in difesa e i difensori in centrocampo comunque aveva una coppia d'attacco Menez destro che poteva anche risultare abbastanza pericolosa lo sappiamo tutti che sono ottimi giocatori quindi però riesco a giocare alla grande qui Brown ruba un pallone e mette davanti al portiere Salah che fa il primo gol da quando è nel mio Chelsea e poi guardate qui che azione spettacolare sempre di Salah tra l'altro che prima si è messo a pregare verso la bandierina di destra adesso dopo questo gol fantastico si mette a pregare davanti all'altra bandierina cosa ha poco senso comunque sia non deve avere senso perché l'avversario ovviamente sul 2-0 quitta dopo soli 14 minuti tra l'altro poteva anche provare magari a fare qualcosina in più però comunque sia doppietta di Salah veramente un ottimo giocatore non vedo l'ora di provarlo nel prossimo episodio perché secondo me è davvero un giocatore formidabile con velocità e tantissima agilità peccato che non ha ovviamente un tiro eccezionale però comunque sia abbiamo visto che le cose le grandi azioni le sa fare come abbiamo visto prima comunque raga l'episodio finisce qui spero vi sia piaciuto penso che da qui in poi li farò quasi tutti non in live perché non lo so non mi piace tantissimo farli in live commentari perché poi mi distraggono lo so comunque fatemi sapere se vi è piaciuto questo video lasciando un bel mi piace vediamo se riusciamo ad arrivare a 400 mi piace belli potentissimi per questo Chelsea niente iscrivetevi al canale pagina facebook twitter instagram tutti i link li trovate sempre in descrizione commentate consigliandomi i giocatori da prendere da qui in poi nel prossimo episodio e così via niente noi ci vediamo penso settimana prossima quando uscirà il prossimo video quindi bella raga e così via Grazie a tutti.